Adesso mi sento bene, ho poi concluso la seconda manche, molto bene, positiva e per questi internazionali sono molto soddisfatto perché non pensavo che dal passaggio dell'85 sul 125 fosse così facile invece mi sono trovato subito al meglio e ho finito questi internazionali molto positivamente No, prima di tutto mi piace il rumore, poi sì, in certe piste però ho visto che non dà molta differenza il 250 bisogna stare un po' più attenti però molto positivo di andare bene all'europeo e fare un ottimo campionato italiano